In Consiglio arriva la legge che è stata ribattezzata taglia manager, quella che consentirà alla Regione in pratica di intervenire in maniera diretta sui manager delle Asla Abruzzese in caso di necessità. Il primo firmatario della proposta di legge è il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, una legge che prevede che la Giunta possa esercitare nei confronti delle aziende sanitarie le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva e vigilanza, compresa la verifica dei risultati aziendali conseguite dai direttori generali e in caso di accertata o persistente inerzia in adempimento possa esercitare il potere sostitutivo, misura che va nella direzione di quanto stabilito dal documento congiunto delle commissioni bilancio e sanità, che hanno invitato la Giunta regionale a prendere i provvedimenti in linea di principio anche il commissariamento, in caso i quattro direttori vadano a sforare i loro obiettivi di risanamento del 20%. Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, spiega che in realtà si tratta solo di chiarimenti e si esagera parlando di commissariamenti a solo un provvedimento che dimostra l'atteggiamento serio della Regione, per lui non è insomma una sorta di stretta sui manager impegnati ora con i piani di rientro per contenere il deficit. Si è creata una grande affabulazione comprendo anche su questo tema, in realtà questa legge che contiene diversi chiarimenti su diverse leggi tende a precisare quali sono i compiti del direttore dell'assessorato regionale nel momento in cui le AS autonomamente approvano i loro piani di contenimento della spesa che ricordo non deve gravare sui servizi erogati in materia di sanità e per caso questi servizi e questi piani non dovessero portare al contenimento della spesa dovuta. Non vi è una commissaria manager, taglia manager, caccia manager, vi è una regione molto seria che approvati i piani autonomamente dalle AS tende a vederne la loro realizzazione. Ma l'opposizione non è di questo avviso per il PD, ad esempio è una legge che certifica un fallimento vero e proprio. È un autocommissariamento, è una prova provata che la maggioranza stessa dice di aver fallito sulla sanità che i manager hanno fallito sia per quanto riguarda l'enorme disavanzo sia per quanto riguarda l'enorme taglio ai servizi e alle prestazioni che purtroppo pesano sulla vita reale, sulla vita quotidiana di tanti, tantissimi cittadini. Per quanto ci riguarda davvero è la prova del fallimento di questa giunta regionale.